Ragazzi l'ho provato per qualche giorno e adesso riesco a dirvi tutto su questo OnePlus 5 nuovo smartphone con un Snapdragon 835, potentissimo, velocissimo, 6 GB di RAM, doppia fotocamera, un lettore di impronte digitali portentoso ma con calma, guardiamo tutto nella recensione completa. Ed eccolo ragazzi lo OnePlus 5, ringrazio subito Honorbuy.it per avermelo concesso in prova, versione 6 GB di RAM e 64 GB di memoria, non espandibili, LED presente, fotocamera anteriore da 16 megapixel di Sony, apertura di 2.0, una doppia fotocamera sul posteriore, una da 20, una da 16 megapixel con apertura di 1.7 sempre di Sony, la seconda cam è una fotocamera 2x per non fare zoom digitale ma per andare a ingrandire subito il soggetto che vogliamo fotografare. Presenti i microfoni per ridurre i rumori, uno qua, uno in basso, qua in alto non abbiamo niente, dal contorno troviamo l'ingresso per la doppia nano SIM, pulsante accensione blocco e sblocco, dall'altra parte volume e uno switch su tre corse, non disturbare, modalità normale, modalità vibrazione. Uno Snapdragon 835 domina su questo smartphone, octa corda 2.45 GHz, Adreno 540, l'interfaccia ragazzi non sto nemmeno a dirvelo, lo sapete meglio di me, è un Android 7 Nougat, basato su Oxygen OS, un'interfaccia che abbiamo già imparato a vedere sullo OnePlus 3T, vedete il menu a tendina, doppia corsa, andiamo nelle impostazioni, guardate il tema scuro, quanto è bello su questo smartphone, info sul telefono, Android 7.1.1, patch di sicurezza, maggio 2017, versione Oxygen 4, 5, 6. Presente un bel pulsantone che sblocca e blocca il telefono, il pulsantone è associabile a qualsiasi tipo di applicazione, io ho, diciamo, selezionato lo spegnimento del display appena faccio una pressione prolungata e guardate questo pulsante di impronta digitale, come non sbagli mai un colpo. Presenti anche due piccoli pallini che sono multitasking e indietro, possono essere scambiati nell'ordine, oppure se non vi dovesse facere questo tipo di interfaccia potrete mettere i tasti all'interno del display e andare a disattivare quelli esterni. In questo modo qua, in questo modo non ci sono più i pallini multitasking e indietro, tutto è all'interno del display, come nel più classico Android. Ma non finisce qui perché possiamo con i tasti fuori dal display andare ad associare una pressione prolungata su di essi e lanciare un'applicazione. Vi faccio un esempio, vado a tenere premuto il tasto indietro e io posso attivare la fotocamera, oppure come abbiamo visto tengo premuto Home e vado a sbloccare il telefono. Come se non bastasse possiamo risvegliare il display del nostro OnePlus 5 con un doppio tap sul display, quindi bene o male queste sono le potenzialità dello smartphone a livello di tasti. Ma non è tutto, perché? Perché possiamo anche andare a cambiare l'icona della batteria, ovviamente la percentuale possiamo metterla o meno, ma invece della solita barretta in verticale è possibile mettere questo cerchietto che si esaurisce a mano a mano che scende la batteria. Possibilità ovviamente di multiutente, non sto nemmeno a dirvelo, il Wi-Fi prende molto bene, la qualità audio in conversazione è molto buona. Parliamo di batteria, batteria da 3300 mAh, bella qua all'interno della sclocca, non si può rimuovere. Dash Charge l'adattatore, Dash Charge la velocità, quindi alta di ricarica, fa da 0 a 100 in meno di un'ora e mezzo, veramente notevole. Ma parliamo un po' di durata, vi faccio vedere uno screenshot che ho realizzato con questo OnePlus 5, eccolo qua ragazzi, vi faccio un po' di zoom. Tempo di attività, 5 ore e 16 minuti di display acceso con il 7% rimasto, con questo andamento qua di scarico di batteria, ha un andamento piuttosto lineare, quindi tranquilli perché a fine giornata ci arriverete tranquillamente, anzi mi sembra una durata molto molto buona. Display da 5 pollici e mezzo, è un AMOLED Gorilla Glass 5, il vetro che lo protegge. Abbiamo il LED di notifica, abbiamo detto LED RGB, l'NFC, dual nano SIM e Bluetooth 5.0. Non è impermeabile ma tranquilli, se ci va qualche schizzetto d'acqua, la OnePlus 5 non si rovina. Abbiamo le antenne posizionate in alto, in questa parte alta e in questa parte bassa, abbiamo l'ingresso di tipo C e abbiamo il jack per le cuffie, quindi non c'è nessun adattatore da usare per le cuffie, potrete mettere le vostre cuffie super mega costose. Una sola uscita audio è questa, vi farò sentire fra un attimo come suona, ne approfitto anche per dirvi come il multitasking possa essere ovviamente tagliato a metà dividendo lo schermo, oppure possiamo bloccare un'applicazione cliccando sul lucchetto in modo tale che quando andiamo a liberare tutte le applicazioni, questa risulti sempre presente senza mai essere cancellata. Poi per sbloccarla risblocchiamo il lucchetto. Andiamo a vedere un po' l'interfaccia, la conosciamo, lo swipe dal basso verso l'alto ci fa vedere tutte le applicazioni, il drawer in ordine alfabetico con possibilità di ricerca app, se sfogliamo invece all'estrema sinistra troviamo lo shelf, questo aggregatore di scorciatoie che ci permette di vedere un po' quello che succede nel telefono, calendario, contatti recenti, eccetera, eccetera. Un telefono che si tiene bene in mano, mi sembra molto molto leggero nonostante pesi 153 grammi, però è un 5 pollici e mezzo, quindi dimensioni peso molto favorevoli, bello questo colore opaco, guardate bello anche il gioco di luce con questo OnePlus, si è grafato al centro, la doppia camera non è stabilizzata otticamente ma solo digitalmente e andiamo a vedere un po' come funziona. Video con la fotocamera anteriore di OnePlus 5. Video con la fotocamera posteriore di OnePlus 5. Non c'è lo stabilizzatore ottico. Dramma! Abbiamo il primo sensore in alto che scatta 1x, se io vado a cliccare su questo pallino vado a 2x e entra in gioco il secondo sensore che guardate anche voi fa uno zoom senza dover andare a usare le due dita oppure diciamo il bilanciere del volume senza perdere la qualità. Oltretutto è possibile scattare in 4 terzi o 16 noni l'HDR automatico o meno flash e tutte queste modalità qua, che sono foto, video, verticale, modalità pro, timelapse, slow motion e panorama. Nella modalità pro guardate un po' quante impostazioni si possono selezionare su questo OnePlus 5. A questa modalità è possibile scattare addirittura in RAW oppure ovviamente cambiare la dimensione della foto. Torniamo alla modalità normale perché uno switch verso il basso vi fa attivare le due fotocamere insieme quindi attiva l'effetto profondità e praticamente il soggetto va a fuoco e tutto quello che gli sta intorno va fuori fuoco in maniera del tutto automatica mentre l'ultimo swipe concessoci è l'attivazione della videocamera, videocamera che registra fino a 4K senza la stabilizzazione ottica ma solo digitale. Detto questo andiamo a vedere la galleria, vediamo un po' come scatta le foto questo OnePlus 5. Iniziamo con ambienti chiusi e il risultato è buono, l'apertura di 1.7 con una fotocamera Sony dà ottimi risultati. Continuiamo con questo bel gelato Maxibone sfocato sul contorno, un effetto bokeh veramente ben riuscito. L'anteriore da 16 mi dà tanta soddisfazione perché è possibile mettere a fuoco il punto del nostro volto andando poi a mettere fuori fuoco tutto quello che sta dietro semplicemente toccando il display quindi l'autofocus è presente anche sulla fotocamera anteriore e queste sono foto che dimostrano la bontà di questa cam. Foto fatta con la posteriore, guardate belli i riflessi di luce sull'acqua della piscina. Foto di sera, c'era solo un lampione a illuminare questa scena, guardate bella la foto che ha catturato. Altra foto fatta con l'effetto bokeh, io mi sono divertito tanto in questi giorni a fare foto con questo tipo di caratteristica e mi è sempre piaciuto perché? Perché mette bene fuori fuoco lo sfondo e mette bene a fuoco l'anteriore, il soggetto diciamo e quindi i risultati sono molto molto buoni. Ottimo lavoro da parte di OnePlus con questa doppia fotocamera di Sony. Andiamo a sentire anche come suona questa cassa in basso, passiamo dal Play Music e sentiamo un brano. Ecco, l'audio si sente piuttosto bene, bello alto mi è veramente piaciuto, ovviamente avendo una cassa sola non è un audio stereo pieno di bassi, tuttavia il risultato è più che apprezzabile. Andiamo a parlare anche di gesture perché a display spento è possibile andare a disegnare delle lettere come M per attivare il torre musicale oppure una V per attivare la torcia, ma questo lo potrete selezionare voi nelle impostazioni secondo il vostro piacimento. Sempre nel menu delle impostazioni possiamo cambiare il tema, quindi predefinito chiaro o scuro, questo è l'esempio di tema scuro oppure possiamo evidenziare il colore dei toggle, degli switch con queste possibilità qua. Quindi vado ad applicare il verde e guardate, vedete tutto quello che è di contorno diventa verde, molto molto personalizzabile, mi è piaciuto. Passando ad un altro tipo di personalizzazione possiamo andare a scegliere tre pacchetti di icone che sono visibili in anteprima, in tempo reale, vedete che vi cambia completamente il modo di vedere queste icone stesse. Passiamo a un discorso di gaming, apriamo Asphalt 8, vediamo un po' la giocabilità su questo Snapdragon 835. E ragazzi vi dico la verità, questo smartphone apre il gioco di Asphalt 8 veramente in 4-5 secondi massimo, è qualcosa di eccezionale, forse è il telefono più reattivo che abbia mai visto e guardate anche come viene gestita la giocabilità da questo smartphone, veramente uno dei migliori smartphone, se non il migliore per quanto riguarda la velocità esecutiva. E rimaniamo in tema di velocità, apriamo un po' i social più diffusi, guardate anche voi la velocità con cui passiamo da una sezione all'altra veramente snello e veloce, apriamo anche Instagram ormai e guardate, guardate, guardate che soddisfazione vi dà lo OnePlus 5. E se vi dicessi che su Antutu Benchmark lo OnePlus 5 totalizza ben 180.000 punti, cosa direste? Siamo davanti veramente a un telefono portentoso, veloce, fluido, bello da tenere in mano, questo alluminio spazzolato opaco, è veramente ben costruito, si permette un'impugnatura solida, non scivola più di tanto, non scalda praticamente mai, siamo in estate, l'ho provato sotto al sole, non mi è sembrato che raggiunga livelli di calore elevati da poter dare noia, ottima! La doppia cam che permette questo effetto bokeh al bacio, forse una delle migliori doppie camere finora uscite sul commercio e poi diciamocelo, la Oxygen OS è un'interfaccia molto leggera, molto fluida, 6 giga di RAM bastano e avanzano anche se abbiamo la configurazione da 8 e 128 giga, io suggerisco questa, la basilare che costa 499 euro su per giù, ringrazio Honor Bike per avermelo concesso in prova a questo OnePlus 5, acquistate sul loro sito, avrete da loro assistenza in Italia 24 mesi e che dire, questo OnePlus 5 per me è promosso! Ragazzi, ci sentiamo al prossimo video qui su The Chastry per parlare di tecnologia, ciao!